ciao ragazzi oggi voglio fare qualcosa con l'argilla polimerica ma cosa ma che cos'è questo sam è un incubo che cosa è successo che cos'è tutto questo casino hai rapinato un negozio di telefoni o qualcosa del genere si uno riesco proprio a scegliere una cover per il telefono è terribile ma cosa c'è che non va con queste questa mi sembra molto carina non capisci non sono alla mia altezza e questo è il problema è sì non mi lasciano esprimere la mia individualità personalmente non lo trovo tanto divertente sai e i semi dai non fare il broncio penso di sapere come aiutarti e come a te piacciono i biscotti oreo vero allora che ne dici di una cover oreo che cosa una cover oreo la vorrei e come evviva allora diamoci da fare semi allora ragazzi oggi farei una cover oreo e avremo bisogno di argilla polimerica e una cover bianca per il telefono per prima cosa prendi dell'argilla impastala per bene dobbiamo mettere insieme due colori il marrone e il nero in modo che assomigli ad un biscotto che c'è semi potresti usare la cover blu no semi perché la crema del biscotto oreo è bianca ah giusto va bene sì adesso dobbiamo mischiare il nero ed il marrone così quindi stendiamo l'argilla per appiattirla bello e ora proviamo ad usare un mattarello continuiamo così e continuiamo così quasi che c'è adesso semi forse puoi usare una cover gialla no semi ti ho già detto che ce ne serve una bianca qual è il problema è semi ok ok stavo solo pensando di usare quella bianca si abbinerebbe perfettamente al mio abito da sera oh semi semi non cambierai mai vero dai siu non essere arrabbiata con me ragazzi mettete un mi piace in modo che siu sia felice invece che arrabbiata ok ok non sono arrabbiata adesso dobbiamo tagliare l'argilla in modo che sia della dimensione della cover così e fantastico fammi togliere questo ed eccoci adesso tagliamo gli angoli figo ragazzi tra poco arriva la parte più interessante avremo bisogno dell'immagine di un biscotto oreo per vedere bene lo schema e poi ripeterlo io penso che questa sia semplicemente perfetta siu siu aspetta ho un'immagine migliore prendila allora scusa siu non sono riuscita a dartela in tempo continua chissà com'è che non sono sorpresa per ricreare lo schema avrò bisogno di questo strumento mi aiuterà a ricreare i più piccoli dettagli del biscotto ehi siu visto che vai così piano ho già creato uno schema per te oh grazie semi ecco adesso dobbiamo ripetere lo schema dei biscotti facciamo attenzione mi raccomando la scritta oreo deve essere chiara e carina vediamo un po' wow è fantastica adesso mi servirà un vecchio spazzolino ecco dov'era il mio vecchio spazzolino da denti bene adesso la parte più difficile dobbiamo creare dei piccoli pezzi proprio come sui veri biscotti oreo e facciamolo inizieremo con delle piccole strisce che rimarranno attaccate ai lati della cover ehi è davvero divertente ascolta siu perché hai bisogno di così tanti piccoli vermi? ma questi non sono vermi Sam questi sono per decorare la cover ecco guarda oh siu dovrai creare un sacco di piccoli vermi ti aiuterò io grazie semi e nel frattempo voi iscrivetevi al nostro canale non vorrete mica perdervi altri video con le nostre creazioni giusto? ok siamo pronti non devi ringraziarmi siu aiutarti è il mio dovere si Sammy ci sarebbe voluto molto più tempo senza di te adesso ho soltanto bisogno di attaccare tutti questi piccoli pezzi in modo che sembri un vero biscotto oreo e attacchiamo questi piccoli fiori qui cominciamo ragazzi ecco che cosa abbiamo realizzato e siu? si Sammy? è bella ma se metto questa cover in tasca si accartoccerà voglio dire morbida come la plastilina hai ragione Sammy per indurire la cover dobbiamo metterla in forno per 20-30 minuti a 120 gradi questo è quello che faremo adesso interessante ragazzi avete mai cotto le vostre creazioni di argilla nel forno? commentate e raccontatemi e io andrò a guardare il siu in modo che non faccia casini oh ragazzi è fantastica Sammy viene a dare un'occhiata Sam dove sei? aspetta che cos'è questo strano odore? io sono qui Susie oddio che ti è successo? non ti preoccupare siu è solo che ho deciso di fare un esperimento e tu che mi dici? ma che cosa hai fatto? è tutto a posto davvero ho solo deciso di cuocere le mie creazioni per indurirle ma invece si sono sciolte e si è trasformato tutto in pozzanghera oh Sammy le tue creazioni sono fatte di plastilina solo questo tipo di argilla diventa duro quando viene riscaldato beh adesso lo so per creare la nostra cover oreo dobbiamo creare un'altra cover a forma di biscotto come questa qui ma per non ripetere tutto il noioso procedimento faremo un calco di questa avremo bisogno di amido di mais e silicone Sammy hai per caso visto la pistola al silicone? eccola grazie Sammy mischierò amido di mais e silicone in una ciotola dovremmo ottenere una sostanza simile all'argilla wow interessante voglio dire faremo una sostanza simile all'argilla per creare uno stampo per l'argilla polimerica questo sì che è creare fantastico guarda che cosa abbiamo fatto per realizzare uno stampo dobbiamo stendere il silicone oh guarda che figo adesso prendiamo la prima parte della cover e la mettiamo nel silicone così wow siu puoi fare uno stampo della mia sagoma ma per cosa Sammy? perché farò un esercito di Sam no Sammy a me basti solo tu e adesso facciamo indurire lo stampo per circa due ore grande penso che il nostro stampo sia pronto adesso togliamo la cover wow quanto manca siu? dov'è il mio telefono oreo? sono così ansioso di sorprendere tutti abbi un po' di pazienza Sammy abbiamo quasi finito ok stenderò un altro pezzo di argilla e riempirò lo stampo tac bene con cura sì proprio così riempirò tutto lo spazio con altra argilla bene usiamo tutta l'argilla siu e io siamo molto parsimoniosi date un mi piace se siete d'accordo eccezionale sai cosa facciamo dopo? lo mettiamo nel forno siu non correre perché no? mi hai chiesto di sbrigarmi giusto? non ho ancora pulito tutta la plastilina dal forno vieni ti aiuto io evviva entrambe le parti sono finalmente pronte mettiamole insieme adesso avremo bisogno di super colla e un pezzettino di tessuto spesso innanzitutto incolleremo il coperchio posteriore alla cover ecco siu posso prendere la mia cover? no Sammy se vuoi che ci sbreghiamo aiutami e incolla questo pezzo di tessuto sul coperchio anteriore eh no è super colla siu mi incollerò sicuramente a qualcosa ok incolleremo qui il pezzo di tessuto adesso dipingiamolo di marrone in modo che sia tutto omogeneo Sammy prenderesti un po' di vernice marrone per favore? certo siu wow così veloce e posso usare anche un pennello stai attenta siu è un pennello per professionisti va bene Sammy dipingiamo e adesso dobbiamo soltanto assemblare le due parti insieme per farlo applicherò della colla nella parte interna della cover e ci metto sopra il coperchio e questo è il tocco finale sì fatto wow è fantastica ragazzi vi piace la nostra cover oreo? assicuratevi di commentare e di dircelo e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di suonare il campanello wow siu hai fatto un ottimo lavoro dai adesso dammela sei così impaziente Sammy va bene wow ma che cos'è quella? oh è un biscotto oreo? oh no amici miei è una cover oreo guarda come si apre e si chiude immagina di camminare per strada e poi ti squilla il telefono e tiri fuori il tuo telefono oreo e tutti intorno rimangono senza parole e dicono come è possibile? ma non è un biscotto oreo? ma no è un telefono oreo volete imparare a fare cose interessanti per sorprendere tutti? allora iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campana abbiamo così tante cose interessanti da farvi vedere ciao alla prossima ciao